La miniaturizzazione, questi oggetti tipo questo è grande come una cassetta, è quasi in scala 1 a 1, mentre invece questo è molto più piccoletto, anche questo è molto più piccolo, perché è una vecchia, questa è una scatola di biscotti, e invece questo di nuovo è una scatola di diapositiva. E' vero, è diapo, pensate, che potrebbe sembrare una stile di giul, esatto, invece queste sono diapositive, anche loro praticamente a scala 1 a 1, anzi, diapositive di Genova 2001, questo per indicare che io, Genova 2001, ci sono andato, anche se non mi hanno mattato, perché siccome sono un po' furbino, beh si vede, Faccio vedere come sono un po' furbino, quando mi stavano per caricare, giù, ho sgamato di lato e non mi ha pigliato, perché insomma, va bene protestare, però pigliarsi delle bastonate per niente, non ha senso. E finiamo, visto che il minuto sta scadendo, finiamo con Obi-Wan Kenobi di fianco a Dan Rosenblatt, che è una scultura fatta di carta straccia.